Potenziata dopo i disagi la composizione del treno regionale 18739 nella tratta Firenze-Arezzo, utilizzato da pendolari in particolar modo da molti studenti. Martedì mattina alcuni passeggeri erano stati fatti scendere a Ponticino, l'ultima fermata prima di Arezzo, per evitare il sovraffollamento. La regione è così intervenuta per sollecitare Trenitalia a potenziare i treni e a tenderne la puntualità. Il bacino del Valdarno e di Arezzo spiega l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, in quella fascia oraria è uno dei più utilizzati per gli spostamenti degli studenti delle scuole superiori. Ci sono poche tratte dove il servizio ferroviario è così utilizzato dagli studenti, per questo è fondamentale che il servizio funzioni. Abbiamo quindi richiesto a Trenitalia immediate verifiche rispetto alle segnalazioni ed azioni specifiche per evitare il ripetersi di queste criticità, oltre che attenzione nella gestione dei flussi nelle stazioni principali. Il treno in questione è stato rinforzato mentre l'altro regionale, oggetto nei giorni scorsi di polemiche perché il ritardo è partito regolarmente in orario facendo servizio come primo treno nelle stazioni principali.